Come mai sei venuta in Italia? Per studiare Cosa studi? Media produzione, quindi faccio anche Twitch perché no Studia, però annestamente, annestamente Ho pensato che Twitch è qualcosa solo per le ragazze Nude, se posso dire Un po' fanno gaming Anche i ragazzi che fanno gaming e basta Però poi ho capito che no Interessante quello No, nel senso Non è così, non è solo per le nude Twitch Che è successo?